Benvenuti in un nuovo video, scusatemi se mi vedete vestita allo stesso modo, ma stamattina è veramente mattinata registrazione video. Obtenevo un po' di tempo, infatti sono le 6.49, sto registrando dalle 6.20 di stamattina. Quindi scusatemi se sono vestita allo stesso modo, ma non ci fate caso, pensate al video che è. Questo qui, ragazzi, questo qui è l'ultimo video natalizio, edizione natalizia del 2018 che vedrete, e sto parlando essendo che abbiamo iniziato il primo calendario dell'avvento, della Kinder, che era un po' deludente. Andremo a scoprire cosa c'è qui dentro. Eccolo qui, dietro stanno delle cose enormi di spoiler. Ma va bene, io farò silenzio. Quindi vedremo veramente cosa c'è qui dentro e se ci deluderà o ci sorprenderà. Quindi concludiamo con questo calendario. Si può vedere che sono un po' amareggiata perché va finendo tutto. Allora, inizierei questa volta perché mi vedete che il rito già sa. Vedetevi i vecchi video del calendario dell'avvento, ho fatto un macello. Quindi questo video dovrei essere un pochino più preparato. Allora, io inizierei dalla casellina numero uno che non vedo. Eccola qui, eccola. Numero uno. Come si chiamano sti cosi? Bons, ciocobons. No. Sì. No. Sì, ciocobons. Ma vabbè. Eccolo qui, per il primo. Buono. Poi 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 andiamo con il numero due. C'è, ok. Una barrettina. Eccola qui. Dio, pure rotto. Adoro. Comunque. In questi video abbiamo fatto veramente una scorpacciata di cioccolata. Cioè, ma a voi non mancherà questa location con l'albero? Oh, ma sì. Un po' di malinconia. Andiamo con il treo. Che stava vicino. Ecco, l'altro ciocobons. Ma come si dice? Vabbè, voi lo sapete che io le cose me le invento un po'. Quindi. No, questo è buonissimo. Non me lo ricordavo così buono. Numero quattro. Secondo voi che cos'è? Guardate com'è piccolo. La vendetta, ragazzi. La vendetta. Ma è la legge a questo quale. Ma come sarà questo e venti? Non li abbiamo mai assaggiati. Buoni, ve li consiglio. Compratele. Questo ne è un altro? Questo è il 5. Sì. Preparateli. A una mega sorpresa. La vendetta. Perché non abbiamo detto che sono stati cattivi. Ecco che le hanno messe anche qui. Guardate com'è piccolo. Quanto ci sarà? Un altro vetto. Perché? No, no, no. Di 24 dobbiamo trovare un novetto piccolo. Vedo quanto ci sarà di 24. Altre 20 non possiamo chiudere in bellezza il video. Hai d'accordo con me? Io il 7 non lo trovo. Ho trovato l'8. 7. Ecco. No, ma di malata oltre. Ma ti ha posto? Eccolo. Ma almeno dico io no. Cambiate il colore. Cioè, sono pure gli altri gusti. No. Andiamo con l'8. Spero di trovare una barrettina. E no col 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 col. No. Un altro di questo. Ecco. 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 Comunque, vi prometto, vi prometto, parola del 2018 che migliorerà nel 2019, vi prometto, nel 2019 vedrete solo calendari dell'avvento, sempre così, particolari. Chi nell'anno prossimo fai qualcosa di diverso, altrimenti non ti compro, semplice, comunque non è buono registrare i video la mattina, vero? Comunque, andiamo con il numero 9, numero 9 sta qui vicino all'ossetto, spero che non parli, uolli! Questo, di nuovo! Ecco, i capelli che perdono forma. Andiamo con il numero 10. Guardate, ui! Sì! Una barrettina! Kinder! Doro! Però, il brutto della Kinder, che cambia il formato, ovetto, ciocobon, come si chiama, barretta. Tutto, alla fine, sembra il suo sapore. Cioè, non cambia. E invece, quella della Lind era molto diverso. Io mi allungo perché... Lattuccio! Non può mancare. Poi, 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 andiamo con il numero 11, che sta sopra, e sta un altro sapore. Buon bambino. Oggì! Oh! Non mi aspettavo di trovare lui! Oh! Per bacco! Che ci fai tu qui? Ma come sarà? Sarà buono? L'uso al cioccolato fuori? Che duro! Eccezionale! 11 Andiamo al 12 Oh là là! Facciamo passi da giganti! Ezi, ti apri! Questo è un video un po' sclerato. Eccola qui. A farla farò vedere, una volta dritta. Eccola qui. Ceno! Andiamo al 13 Cos'è ci sarà nel pinguino? Una novità! Una novità 2019 Non l'avete mai vista? L'assaggiamo! E vi dirò com'è! Sono le 7 Buono! Mmm! Particolare! Andiamo al 14 Dove stai? 13 Io questo non riesco a capire se è 14 Ah, eccolo il 14 No! Trou! Oddio! Non intendo bianchi! Un altro vetto, eh! Per chi non l'aveva capito Mmm! Il 15 Il 15 L'avete! Semplice! Semplice! Mmm! Buono! andiamo al 16 eccolo qui questo forse protesta andiamo nel 17 che non vedo 18 16 dove sta il 17 ah eccolo aspettate ho detto eccolo qui ora di tutto io berrei io berrei un po' mi stavo tagliando ok possiamo procedere con il 18 eccolo qui oddio mogadeva andiamo al 19 ve lo scambiate una volta per il 14 una volta per il 17 ecco apriamo vediamoci così abbiamo lo troppo io non mi devo arrivare al 21 perché lo vedo bello grande è pure il 23 che c'è dentro che c'è cosa c'è dentro il ventono andiamo al 20 come fa dove dobbiamo andare alla kinder e lo andiamo a dire che si deve togliere dal commercio questi e quelli finalmente arriviamo 21 21 aspettate mi viene che mi vede bene un marro babbino tale e babbino tale è arrivato alle porte le persone Allora, però, sto calendario l'hanno studiato male, perché come me, che in, tengo scelto qua, in 18 minuti, mi mangio il calendario dell'avvento. Tu me lo devi dividere, mi fai due o tre cose piccole, poi mi fai questa grande, poi mi fai le piccole, perché altrimenti mi fai arrivare l'ultimo. Se siete d'accordo con me, scrivetemelo sotto, hashtag sono d'accordo, se siete arrivati fino alla fine di questo video. Su, se ne vedo nessuno vuol dire che nessuno è arrivato in me robbio, eh. Andiamo avanti. 22, eccolo qui. Andiamo al 23. 23. 23. Babbo Natale. Uno, due, tre, mi dispiace. L'ho rotto. L'ho rotto. Ho perso un magro. Con troppa enfasi l'ho aperto. Ce la farò per domani mattina. Ok. L'ho combinato. Formiga. Dove vi siete? Vabbè. Non fai niente. Ma domani. Ma domani. Secondo voi. Io posso non essere normale nei miei video? No. Non sono normale nella vita reale. Non lo posso essere neanche su web. Vediamo. Ho fatto un macello a terra. E siamo arrivati anche oggi al 24. Ah, con questo video, prima di arrivare al 24, vi voglio augurare. Giulia, un buon Natale, un buon Santo Stefano, mi raccomando, mangiatevi poco, mangiatevi anche la tavola, i vostri parenti, tutti, tutto, mi raccomando di passare un felice Natale. E quindi, augurissimi. Poi, noi ci sentiremo anche su Instagram, vi farò anche gli auguri lì, però, per chi non mi segue su Instagram, non so perché, perché non mi sopportate, perché non mi segue su Instagram, vi do i miei auguri qui, anche se ho intenzione al 24, al 25, al 26 di vloggare e poi pubblicarvelo al 27, quindi vedremo un pochino. Quindi ancora, augurissimi. Quindi, andiamo avanti con la casellina numero 24. Pronti? 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 Dove stai? Kinder sorpresa! Adoro! Questa non deve essere, questo non si deve rompere. Stava cadendo! No, io stavo arrivando. Non avendo un appoggio. Oddio, non ho avuto dei bianchi, stavi. Mmm, buono. Ultimo cioccolato. Penso che questo sia stato il video meno serio che abbiamo fatto. Secondo voi? Apriamo? E' una macchinina! Bello! Bravi, bravi. Ok, posiamo. Beviamo, brindiamo a noi, che oggi è 31 dicembre. E anche questi video sono finiti. Non ci posso pensare. Veramente, quindi adesso vi devo ringraziare. Veramente io questi video li ho fatti senza stress, senza niente. Non mi è pensato di dare i video fino alle 2 di notte, l'una di notte, incazzarmi col computer, far volare il computer, che alla fine l'ho fatto veramente con il cuore. Quindi vi ringrazio perché siamo arrivati quasi ai 1000 iscritti e io non ci posso ancora credere in pochissimo tempo. E' nulla, quindi io vi auguro un felice Natale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Mi raccomando, mangiarli tanto, non pensare alla dieta.